Ciao ragazzi, come state? Io bene. Come vedete oggi vi propongo la recensione di Cinderella Live Action del Disney Store. Allora, io penso che questa bambola sia veramente bellissima. Almeno con questa sono stata fortunata, visto che con quella versione hyper super mega big, ovvero quella gigante, la versione limited edition, come sapete non ho avuto molta fortuna con lei, visto come era arrivata, ma fortunatamente Cinderella Live Action, almeno la versione classic, mi è arrivata perfettissima, non ha nessun difetto in assoluto. A me piace veramente tantissimo, la trovo veramente carina e somigliante tantissimo anche all'attrice Lily James. Allora, vediamola un po'. In alto troviamo il marchio Disney Store, appunto perché la bambola è prodotta da Disney Store. Vediamo che la scatola è fatta di plastica, come le solite scatole Disney Store, e dietro è fatta con il cartoncino. Poi qua davanti vediamo questa bellissima farfalla. Appunto le farfalle sono il simbolo di questo film, appunto le troviamo sul vestito di Cenerentola, e in più sulla scatola, comunque come decoro in generale. Troviamo la scritta in grande Cinderella, ed è fatta nello stesso font usato per la locandina del film, e troviamo anche Film Collection, e la stessa scritta in francese. Poi troviamo dei Ghirigori, qua, sembrano più dei fiori. Poi qua troviamo i soliti Warning, Chalking Hazard, Small Parts Not for Children Under Three Years, appunto ci sono parti di piccole dimensioni, e questo giocattolo non è adatto ai bambini dai tre anni in giù. Poi, come vediamo, qua di lato, intanto vediamo che la scatola è molto più, non space, insomma, è più larga rispetto alle scatole delle bambole classic. Vedete che anche non è proprio dritta, ma tende un po' ad andare in così, insomma, è un po' più sbiega, almeno la parte davanti. Vediamo qua che ci sono questi Ghirigori dorati, magari mi avvicino per farvi vedere, vedete qui ci sono questi Ghirigori dorati, appunto stampati sulla plastica, troviamo ancora le farfalline, ancora Ghirigori puntini vari, insomma, vedete, è fatta così da entrambi i lati. La trovo veramente molto bella, anche perché essendo una bambola classic, si sono, diciamo, veramente sforzati nel fare la scatola, anche perché, oltre ad essere una bambola classic, io penso che possa veramente anche fare molto bambola da collezione, perché, alla fine, questa Cinderella può essere, sì, usata dalle bambine, dai bambini, insomma, per il gioco, ma allo stesso tempo la scatola, tenerla in scatola, comunque come sto facendo io in questo momento, la rende molto una bambola da collezione, e mi piace molto che questa scatola faccia molto questo effetto bambola da collezione. Comunque, andando avanti, vedete anche di qua, ci sono gli stessi Ghirigori, il retro, il retro è fatto completamente di cartoncino, e vediamo questa, diciamo, parte qui. Troviamo una foto tratta dalla locandina del film, di, appunto, dove ritrae, appunto, l'attrice Lily James, nel suo ruolo di Cinderella, troviamo ancora qualche decoro dorato con le farfalline, che, appunto, sono il simbolo caratteristico, come vi ho detto prima, troviamo di nuovo la scritta Film Collection, e poi troviamo, diciamo, un paragraffetto in inglese e anche in francese, praticamente è lo stesso paragrafo tradotto. Praticamente qua ci viene a dire che Disney Store ha riprodotto tutte le bambole, no, ha riprodotto, diciamo, gli attori principali del film in versione bambola, che insieme ai fan e comunque ai collezionisti si sono messi, insomma, a fare tutti gli scat del viso, in modo che fossero più, diciamo, somiglianti possibili agli attrici e agli attori del film. E quindi sono venute, appunto, fuori queste bambole qua, che io trovo veramente somiglianti. Comunque, andando avanti, qua troviamo dei Ghirigori, sempre dorati, troviamo che questo prodotto è stato certificato dalla comunità europea, è riciclabile al 70%, questo simbolino, come sempre non mi ricordo mai cosa voglia dire. Comunque, poi qua troviamo sempre il simbolo di autenticità Disney Store, troviamo di nuovo, diciamo, le avvertenze che ci dicono che non è adatto per i bambini dei tre anni in giù, e poi troviamo in microscopico, qui più o meno, le stesse attenzioni che ci sono riportate nel davanti, infatti ci dice, attenzione, rischio di soffocamento e comunque presenza di piccole parti. Ecco, avete ben capito che, insomma, ci sono più o meno le stesse cose ovunque in questa scatola. Purtroppo la scatola non mi è arrivata perfettissima, anche perché qui in alto c'è una piccola crepa, che è, insomma, un po' triste da vedere, però alla fine io non la guardo mai sul rete, perché tengo la parte davanti per guardarmi la bambola. Comunque, vi faccio rivedere di nuovo questa bellissima immagine di Lily James, che interpreta appunto Cinderella, e come vedete qua si vede molto bene la scarpetta di cristallo che indossa nel film, che poi vedremo anche nella bambola, perché è stata veramente riprodotta benissimo. Comunque, la scatola è molto semplice da aprire, infatti si può aprire con questi semplici, diciamo, tondini di scotch, basta appunto levarli o tagliarli in mezzo, o comunque staccarli, ma vi consiglio di staccarli se volete tenere la scatola e magari reboxare la vostra cinterella. E dentro, mi sono dimenticata di dirvi, è stata ricreata un po' la scenografia di quando Cinderella appunto scende la scalinata per dirigersi alla sua carrozza. Infatti, vediamo questa parte qui che rappresenta la scalinata, vedete che è anche un po' più in rilievo, questa parte di cartoncino, poi sullo sfondo vediamo degli alberi, vediamo comunque un giardino e comunque anche la scalinata. E poi qua c'è qualche colonna che sta in parte alla scalinata. E comunque questo è quello che Disney Store ha voluto ricreare per la scatola di Cinderella. Questa è la versione da ballo, ovviamente, perché indossa l'abito da ballo. Poi sono state fatte anche la fata madrina. Oddio, mi stava andando via la voce. È stata fatta la fata madrina, la Lady Tremaine, che è appunto la matrigna. È stata fatta Cinderella in versione abito da sposa, che è venduta insieme al principe. Che sinceramente il principe a me proprio non piace, perché mi ricorda tantissimo il gobo di Notre Dame. Sinceramente l'ho visto dal vivo e fa schifo ugualmente. Quindi se volessi avere Cenerentola da ballo, il principe lo darei al primo che passa. Scusami, ti interessa? Ma probabilmente mi direbbe di no, perché assomiglia il gobo di Notre Dame. Comunque, non che abbia qualcosa contro Quasimodo, perché Quasimodo mi sta stra-simpatico. Però quello lì è proprio brutto. Cioè il principe di Cenerentola è proprio brutto, non ci possiamo fare niente. Nel film è carino, ma come bambola fa proprio schifo. Comunque, andiamo a vedere questa bambola. Magari facciamo un piccolo unboxing insieme, magari una cosina veloce. Allora, vediamo. E qui è già lì. E qui è già lì. E qui è lì. E qui è lì. E qui è lì. Ecco quella ed è finalmente out of a box. No, scherzo. Comunque, finalmente Cinderella l'abbiamo deboxata, come avete visto. E non è stato difficilissimo, anche perché io, avendola già deboxata tempo fa, l'ho messa in modo che nel caso mi servisse deboxarla, l'avrei deboxata il più in fretta possibile. Comunque, non vi avrò detto, ma Cinderella è stata un mio autoregalo di compleanno. Infatti, sono stata felicissima di averla acquistata, anche perché la trovo una bambola veramente stupenda e ben fatta. Allora, cosa posso dirvi? Questa è cenerentola e come vedete i capelli, cioè, sono la prima cosa che colpiscono, anche perché la fanno vedere piena di riccioli e effettivamente continua ad avere i riccioli. Non si sono mai sboccolati fino adesso. Come vedete, questa è Ella. E come vi stavo dicendo, dei riccioli, vedete, cioè, sono veramente fatti benissimo e li trovo veramente stupendi. Anche perché, come lo fanno vedere nella foto di stock, è piena di riccioli e ci arriva lo stesso pieno di riccioli. E sono veramente ben definiti e ben fatti. Mi piace veramente tantissimo questa cosa, perché, come sapete, i capelli sono molto importanti per una bambola. Dunque, visto che stiamo parlando dei capelli, vi mostro anche che Ella ha una bellissima conciatura che è identica a quella del film, ovviamente, perché, essendo la riproduzione dell'attrice, deve essere il più fedele possibile. Quindi, come vedete, qua in alto, sono state prese due ciocche qua davanti e portate indietro e sotto queste due ciocche è stata fatta una treccia, che suppongo partire da qua fino ad arrivare sul retro. Ho notato che, per tenere questa treccia, comunque questi capelli, intanto sono stati applicati questi pezzettini di plastichina e, inoltre, sono stati anche legati da questi elastichini. Invece, qua dietro, per tenere la treccia, è stata fatta una cosa stranissima. Infatti, è stato messo l'elastico per chiuderla e, inoltre, è stato messo un altro plastichino, in modo che stia fermo, appunto, attaccato alla testa e non si muova. Comunque, si può sempre nascondere coi capelli che stanno sopra e, infatti, non si vede proprio il fatto che c'è tutto questo ambaradam sotto che tiene, appunto, l'acconciatura in perfette condizioni. E, come vedete, Ella è veramente, ma veramente, somigliante a Lily James. Come notate, ha questo caratteristico mascellone, infatti, in un gruppo Disney di cui faccio parte, praticamente è stata nominata Ella Mascella, appunto, perché ha questo mascellone gigantesco. È veramente molto, ma molto, ma molto accentuato, quindi, per quello l'abbiamo chiamata Ella Mascella. Poi, come vedete, ha gli occhi castani, ha questo ombretto sull'azzurro grigio, molto, molto tenue, che comunque le sta veramente benissimo. Le sopracciglia sono di un marroncino tendente al biondo, la bocca ha questo bellissimo rossetto nude, che mi piace veramente tanto, e poi sulle guance è stato applicato del blush. Come vedete, di profilo, è veramente bellissima, io la trovo veramente molto, molto somigliante, anche se l'avrò detto 75 volte, mi piace veramente tantissimo questa bambola. Molti dicono che sia brutta, però, sinceramente, non vedo dove possa essere brutta questa. La trovo veramente somigliante, alla fine, a me piace tantissimo. Il naso forse è leggermente grosso, non so a voi, ma a me sembra leggermente grosso. Però mi piace, ha quello, vedete, ha uno sguardo molto particolare, cambia espressione, non so che non cambia espressione, però in ogni cosa che la si mette cambia un po', non è espressione, però sembra diversa. A volte sembra più sorridente, a volte sembra un po' più triste, a volte un po', cioè, non so, provate a vedere voi. Non vi sembra che cambi un po' questa espressione, insomma, se mi avete capito sapete a cosa mi riferisco. Comunque, passando avanti, vi mostro l'abito che è qualcosa di magnifico e credo sia stato fatto, no bene, ma di più. Forse dopo vi dico qualcosina che potevano evitare o comunque sistemare. Comunque questo, adesso ve la appoggio al muro, se no non riesco a farvela vedere decentemente. Orco, ha perso già la scarpina, visto che siamo a tema cenerentola, deve perdere proprio la scarpa, sta scema. Anche durante la recensione, no? Allora, come vedete l'abito è veramente bellissimo e molto molto ampio, cosa veramente che mi ha lasciato così. Pensavo gli facessero un abito molto meno ampio per risparmiare, ma invece si sono, diciamo, superati e hanno fatto quest'abito veramente bellissimo. Allora, vediamo che il corpetto è di un azzurro più chiaro rispetto alla gonna ed è tutto brillantinato. Come vediamo, la parte del décolleté è fatta con questo tulle azzurrino decorato con queste farfalline di plastica con sopra dei piccoli strass colorati, infatti quelle gialle hanno lo strass color arancio, poi questa farfallina centrale ne ha addirittura due e sono di quelli da bianchi, questa azzurra ce l'ha appunto blu e comunque vedete che le farfalline non finiscono qui ma continuano anche sul retro. Insomma, sono veramente bellissime, sono messe così casuali, infatti non hanno un posto fisso, come vedete non sono simmetriche, diciamo, nell'abito. Mi piace veramente tanto perché questo corsetto l'hanno fatto identico, infatti nel film non finisce tipo qui l'abito, solo per risparmiare, non l'hanno fatto finire qui, ma lo hanno fatto andare fino a fare questo scollo anche sulla schiena che è come quello nel film e vi dico anche che il corsetto è possibile rimuoverlo, infatti il corsetto e la gonna sono due parti separate nel vestito e possono essere rimosse separatamente. L'unica cosa che non amo del corsetto è questa brutta piega che fa qua sotto, non mi piace veramente molto, sarà che la gonna è abbastanza grossa però non mi piace questa piega che prende, però dai, non mi lamento perché alla fine è molto molto simile al film. Comunque, passando alla gonna, oh beh, la gonna ragazzi, non ce n'è una ma ben due, infatti c'è più, la gonna più sotto, diciamo, è fatta così, è fatta di questa rettina rigida in modo che l'abito stia ben aperto e insomma debba tenere questa gonna bella ampia. Quindi hanno messo questa rettina in modo che l'abito stia abbastanza aperto. Poi, come vedete, così, l'abito è enorme. Comunque, vi dicevo, la gonna più, diciamo, esterna è formata da tre strati. È formata da questo strato di tulle azzurrino, lo stesso usato per il décolleté del corsetto, sì che poi il corsetto non ha un décolleté, però insomma, della parte del décolleté, insomma, capitemi. Questo invece, però, è stato anche tutto brillantinato e inoltre gli sono stati attaccati degli strass, molti nella parte, diciamo, davanti e un po' meno nella parte dietro. Appunto, sono andati un po' a risparmio su questo perché ce n'è tipo uno ogni tanto qui e qua c'è tipo un'esplosione di strass, però vabbè, insomma, può essere comprensibile. Allora, poi, il secondo strato è formato da questa specie di, questo non è proprio tulle, ma sembra tipo veletta, color blu, molto bello. E inoltre, l'ultimo strato è formato da questa specie di rasetto azzurro, che mi piace tantissimo, ed è molto, ma molto soffice e morbido, mi piace un sacco. E' una stoffa veramente bella e sono contenta che l'abbiano usata per fare, insomma, è una stoffa di qualità, non è una stoffa scadente come quelle che usano di solito. Quindi sono veramente felice che si siano veramente sprecati per questa bambola, perché è veramente stupenda e il vestito, per la prima volta, devo dire, essere fatto veramente bene. Comunque, andando avanti con la recensione, vi mostro le scarpine, che gliele tolgo a Ella, perché sennò me le perdo di nuovo. Allora, le scarpette sono fatte così, eccole qua, le vedete? Sono bellissime e sono identiche a quelle del film. Appunto, vediamo che hanno questa specie di colore trasparente perlato, per ricordare appunto la lucentezza del cristallo, e inoltre presentano anche la farfallina che c'era sul film, ed è dorata ovviamente. Peccato che non ci sia lo strass, però sono veramente identiche e bellissime. Mi sono stupita che si siano sforzati anche di fargli le scarpe. Sono stra-contenta di avere appunto questa Cinderella, appunto perché è molto molto dettagliata. e queste scarpe poi sono il tocco, diciamo, il tocco in più, che rendono la bambola ancora più bella e comunque di qualità più alta. Non vi ho detto che Cinderella è semi-articolata, diciamo, perché? Allora, da perché? Ok, muove la testa, muove la spalla, come ogni Disney, muove anche il gomito e il polso. Poi muove l'anca, adesso vi mostro, perché c'è, diciamo, 75 strati di gonna. Allora, muove l'anca, però le gambe, come vedete, non sono bendable, ma sono fatte di gomma, che comunque possono essere piegate, ma neanche troppo. Quindi è un po' triste questa cosa, perché se le bambine vogliono giocarci, o comunque i bambini, perché tutti ci possono giocare con le bambole, e non ha molta, diciamo, stabilità da seduta, perché non piega tantissimo le gambe. Le barbie le piegano decisamente di più di così. Comunque, sono, diciamo, abbastanza contenta, lo stesso, di questa mobilità di Ella. Comunque adesso vi do le mie impressioni generali su questa bellissima donzella. Questa era la recensione di Cinderella Live Action. Penso che questa bambola sia veramente fatta bene, che sia molto, ma molto somigliante a Lily James. Adoro il suo vestito, le sue scarpe sono qualcosa di fantastico, mi piacciono un sacco questi decori delle farfai. Poi, cos'altro dirvi, i capelli sono felicissima, perché sono stupendi, e mi piace il fatto che siano arricciolati e che la piega stia. L'unica pecca, secondo me, è la piega che prende il corsetto per colpa della gonna e il fatto che con lei non arrivi un piedistallo, essendo comunque scritto nel box Film Collection. Penso che potessero mettere un piedistallo, appunto, perché nella scatola c'è scritto anche Film Collection e comunque viene considerata più una bambola da collezione che da gioco, secondo me, anche perché è molto dettagliata. Secondo me una bambina la distruggerebbe in dieci secondi se si mettesse a giocare con lei. Però, comunque, insomma, il gioco ci sta, perché alla fine se a uno è piaciuto il film di Cenerentola e comunque alle bambine piacesse giocare con la bambola, appunto, proveniente dal film, direi, cioè, io gliela darei, gliela farei giocare, però, insomma, penso che sia adatta delle bambine che, insomma, abbiano, no, è adatta più alle bambine che comunque hanno un senso del tenere da conto le loro bambole. Detto questo, io penso che Cinderella sia bellissima e ve la straconsiglio. Il prezzo su Disney Store è di 35,90 euro, se non erro. Forse è un pelino tanto per lei, perché almeno un piedistallo potevate darmelo, sinceramente, Disney Store. Comunque, Disney Store non è mai stato, diciamo, abile nel mettere piedistalli con le sue bambole. Ma, detto questo, io sono veramente felicissima di averla presa. Insomma, sono rimasta veramente contenta di questa bambola perché la adoro. Io, personalmente, la terrò nella sua scatola anche perché non ho un piedistallo dove, appunto, esporla e intanto starà in questa sua scatolina. E cos'altro dirvi? Spero che la recensione vi sia piaciuta, ragazzi. Come sapete, anche domani arriverà una recensione a tema Disney o comunque non Disney o comunque non Mattel. Niente, se vi è piaciuta battete un like e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e commentate in tantissimi dicendomi cosa ne pensate di Cinderella Live Action la bambola del Disney Store. Ok, ragazzi, vi saluto, vi mando un bacione. Ciao! Ciao!